Le voglio chiedere subito se è deluso di questo finale perché in un minuto il Pescara è passato dal terzo posto in solitario al quinto posto con un Ponte d'Era che conti fatti non ha rubato nulla, anzi. No, 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 ma infatti non si può dire che il Ponte d'Era abbia rubato assolutamente nulla perché ha avuto le sue occasioni e quindi alla fine il risultato è anche giusto. Siamo stati noi dei polli come al solito perché è vero che trovi una squadra che magari si chiude ma fa il suo gioco chiaramente, non è che possiamo rimproverare nulla al Ponte d'Era. Voleva un punto e si è portata a casa. Noi secondo me dobbiamo provare in queste situazioni qui forse dobbiamo provare di più quello che ha provato poi Clemenza e ha messo la palla dentro. Quello che diceva Ivantisci da studio. Ma sono assolutamente d'accordo perché se non puoi riuscire ad entrare in altra maniera noi ce l'abbiamo i tiratori e proviamo pure qualche volta a tirare, bisogna per forza entrarci con la palla dentro la porta. Io riprendo una frase che ha detto Poco Falei quindi uso un suo termine, siamo spesso dei polli, però capita troppo spesso Presidente? Lo so, capita spesso quindi evidentemente è mancanza di un po' di personalità perché prendere un gol come quello che abbiamo preso noi è assolutamente da polli perché se prendi il gol nelle situazioni che ha avuto il Ponte d'Era, chapeau, non c'è nulla da dire, le ha avute, è stato bravissimo oggi Iacobucci a dimostrazione che abbiamo giocatori validi sia che giocano che che non giocano. Poi è chiaro che se la partita non la chiudi noi non dobbiamo sempre per forza essere belli, qualche volta si può essere anche meno belli e trovare qualche cosa di diverso. Purtroppo cerchiamo sempre di essere belli e guarda caso quando giochiamo quelle partite con le squadre che ti fanno giocare e giocano e poi esce fuori la qualità, esce fuori la bellezza di questo Pescara, però poi ci sono anche queste partite qua. D'altronde se noi stiamo rammaricando sui punti persi in questo campionato, se fai a vedere abbiamo persi al di là degli scontri diretti con Reggiano e Modera, li abbiamo persi quasi tutti con le piccole, le cosiddette piccole. E quindi la soluzione visto che se si dovesse arrivare quinti e playoff il primo turno è con una piccola? Beh però i playoff il discorso è diverso perché se gioco per lo 0-0 possiamo stare due o tre giorni qui a giocare 0-0, quindi ai playoff qualcuno deve vincere, per cui magari le partite sono diverse. Però è chiaro che se giochi queste partite qua, adesso da qui alla fine abbiamo tutte squadre che hanno comunque da giocarsi qualcosa a livello di salvezza, a livello di playout, e quindi troverai queste squadre qui che vengono qui per cercare di portare a casa qualcosa, magari fare il colpaccio pure perché purtroppo è così e quindi dobbiamo essere noi un po' più cattivi nel cercare anche delle soluzioni e se non riusciamo ad entrarci dentro con la palla magari riempiamo l'aria e mettiamo qualche palla in mezzo che può darsi come fanno gli altri che facciamo pure noi. Questo è un messaggio tra le righe dopo quello che aveva mandato dopo Reggio Emilia che probabilmente aveva detto servono tre centrocampisti? No, 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 questo è un messaggio alla squadra, perché io non sono d'accordo con chi dice ma noi non giochiamo, non è vero che non giochiamo, perché noi alla fine se vai a vedere la palla ce l'abbiamo sempre noi, però il problema è che poi qualche volta bisogna essere più concreti e la concretezza credo che non te la deve dare nessuno al di fuori di quelle che stanno in campo, perché quando arriva all'interno dell'aria è inutile di cercare il passaggio per far vedere che sei più bravo degli altri, tira e può darsi che qualche volta fai gol pure tu. Una domanda da studio per il Presidente e poi chiudiamo qui dalla mixzone. Sì, siccome in studio c'è oggi Ivan Tisci, ex Biancazzoro, vorrei che la rivolgesse lui alla Presidente. Ivan. Presidente, ci siamo visti prima allo stadio e speravo di venire a commentare una vittoria perché è quello che cercavamo e volevamo un po' tutti quanti. Direi che lei ha detto tutto, ha toccato secondo me degli argomenti giusti sul fatto che, ho detto prima, mi sono permesso di dire a Mr. Roteri che ci saranno squadre, spesso squadre che contro il Pescara, l'hanno fatto durante tutta la stagione, si chiudono e al di là delle palle inattive che secondo me sono una grandissima risorsa che ha questa squadra perché ha dei giocatori che le battono molto bene, ogni palle inattive del Pescara è un pericolo per gli avversari e ne è stata la dimostrazione oggi. Credo che, come ha detto bene lei, individualmente ogni tanto bisognerebbe prendersi qualche responsabilità in più per provare a fare quelle giocate, vedi quella di Clemenza oggi o anche altri giocatori come Dursi che hanno lo spunto perché quando si chiudono gli avversari devi metterci anche qualcosa di tuo, quindi sono d'accordo su quello che lei ha assolutamente detto prima, quindi ho poco da chiedere. L'unica cosa che mi viene in mente è questa, se magari oggi si può dire, io questa squadra l'ho vista spesso quest'anno, per me questa squadra, questo organico da gennaio in poi con gli innesti è un organico che non ha nulla da invidiare, dico alle prime due, non dico alle prime tre perché secondo me è meglio del Cesena, perché è diventata una squadra che occupa bene il campo e anche nell'individualità è più compatta e più concreta per la categoria. C'è il rammarico, secondo me, che se si fossero riusciti a costruire la prima, ma immagino le difficoltà che sappiamo tutti che riguardano i giocatori in esubero che c'erano, secondo me questa squadra nelle prime tre ci poteva stare tranquillamente. Ivan, sono d'accordo perché alle volte, ripeto, non è una questione che qualcuno dalla panchina ti dice che la palla la devi mandare indietro, cioè ci vuole un po' di responsabilità da parte dei giocatori di guardare avanti qualche volta, quella fa parte della personalità che devi avere in campo anche cercando di, magari anche sbagliando, però se non ti prendi la responsabilità giochiamo sempre la palla, cioè attacchiamo e ci ritroviamo dal portiere nostro ed è una cosa che obiettivamente in molte situazioni è stucchevole come modalità di gioco perché, ripeto, se uno prova una giocata e magari sbaglia un pallone, non succede nulla, però molte volte in queste categorie soprattutto se provi la giocata e tecnicamente lo puoi fare perché sei superiore agli altri, probabilmente crei la superiorità e arrivi in porta o magari da fuori ti arriva una bella palla, tiri perché non è che abbiamo buffon dall'altra parte in ogni partita, quindi come sbagliamo noi possono sbagliare anche gli altri, però se non ci provi è difficile. Io chiudo con due battute al Presidente Sebastiani, tanti anni fa Presidente lei sorpreso un po' tutti, via Baroni arriva a Oddo nei playoff e a Bologna il Pescara perse solo per una traversa a poco dalla fine, è da escludere questa situazione quest'anno categoricamente oppure mai dire mai e poi dovrebbe essere la settimana del deferimento quella che arriva? Ma non esiste proprio Enrico perché mi sembra di essere stato molto chiaro, qui non è che qualcuno ha i ragazzi in campo e dice di tornare indietro quando c'è una palla, per cui se fosse così sarei il primo ad accorgermi, siccome non è questo quello che chiede il Minister e anche i giocatori devono prendersi le loro responsabilità e qualche volta magari provare a essere meno belli e più concreti perché Ivan diceva una cosa sacrosanta, secondo me è a ragione lui, da gennaio questa squadra poteva giocarsela tranquillamente con le prime due, non è stato fatto però adesso vediamo mancano ancora quattro partite e possiamo comunque raggiungere l'obiettivo perché alla fine sono a due punti, domenica c'è uno scontro diretto poi ce ne saranno qualche altra partita difficile anche per loro però noi dobbiamo pensare a noi dobbiamo vincerle. Chiuso, le chiedo se è preoccupato per la settimana dove potrebbe arrivare il deferimento. No, me l'ho sempre detto e ve lo ribadisco, noi siamo tranquillissimi perché abbiamo fatto le cose fatte bene, poi ci saranno i momenti giusti per far valere le nostre ragioni, poi è evidente che se vogliamo paragonarci ad altre situazioni obiettivamente a me questa cosa non mi va perché se poi mi devono sindacare sulla vendita di un giocatore dove io prendo soldi allora ci venissero loro a fare i presidenti e facessero loro perché i valori dei giocatori se permettete li do io visto che li pago io e li cresco io.